Oggi ho ricevuto una lettera dal mio migliore amico Massimo. Sembra impossibile, ma si sposa, eh sì. Non è che sai qualche posto dove posso fare una cinetina romantica con Luisa? Posso offrire una cinetina? A me un crudino, grazie. Eh sì, c'è un cissordi, te la metti spiegate, non c'è sto avanti. Il Donalese ha il suo matrimonio di Massimo, non ho solo. Adesso metto il retromarcio e gli cravo il cravo. Sì, il retromarcio, non sei andare a Patino? Il film più divertente con la cricca più pazza dell'anno. Sei qui? Sì, brava, bussare no, eh. Bello il matrimonio, eh. Ma fa un casino, eh. Tre spose per cinque mariti. Al cinema.